Terzo appuntamento del laboratorio di cittadinanza promosso dall'azione cattolica in collaborazione con la diocesi di Vallo della Lucania sul tema uomo ambiente politica. All'incontro tenutosi presso l'auditorium del liceo Alfonso Gatto è intervenuto il giurista Vito Rizzo. Oggi con i ragazzi abbiamo affrontato il tema dell'ecologia integrale e di come anche le scelte personali e politiche incidano in un quadro generale. È stata un'esperienza comunque importante perché con i ragazzi ci siamo confrontati su tanti aspetti. Siamo andati dalla considerazione di come le scelte politiche e economiche creino disuguaglianze, da come la dignità dell'uomo debba essere sempre al centro delle scelte, di come il tecnocentrismo possa spostarci verso un mancato progresso. E poi abbiamo toccato anche i temi di bioetica in una chiave laica, naturalmente, ma di capire come anche la questione dell'aborto deve essere affrontata in una maniera più oggettiva tenendo conto della relazione che bisogna avere sempre con la vita umana e con la dignità della persona. Su questo è stato veramente poi un dibattito molto aperto, però è molto positivo che i ragazzi si confrontino e acquisiscano delle chiavi di lettura da utilizzare poi per vivere con pienezza le proprie scelte, la realtà che sono chiamati ad affrontare e anche naturalmente il loro essere cittadini pienamente consapevoli.